Ciao a tutti ragazzi sono il piccolo rubio e sono ritornato in auge, lì potete vedere il cuscino di Cersei, guardate che bello, adesso lo faccio vedere meglio, eccolo lì, che bello, meraviglioso. Comunque oggi sono qui sotto la pioggia, che è imperversa finalmente, che c'è un po' di pioggia perché c'era il po' che era veramente una cosa indecente, per parlarvi del manga di Sailor Moon e fare un raffronto con l'anime, l'anime ovviamente degli anni 90. Chi ha più o meno la mia età, io quanti anni ho, lo scopriremo solo vivendo, comunque io negli anni 90 ero un giovincello e sono cresciuto con i cartoni di Sailor Moon. Mi ricordo che la prima serie la faceva tipo dalle 4 su Italia 1, la prima e la seconda, la terza invece l'aveva fatta su Rete 4, prima c'era Gamebot con Ubaldo qualcosa, vabbè, quello lì che fa anche il doppiatore, dove praticamente tu telefonavi e facevano dei giochi molto infantili per i bambini, no? Dove praticamente dovevi indovinare la chiave che entrava nel forziere, anche lì insomma parliamo di cose un po' porno. Vabbè, comunque dopo faceva Sailor Moon. Poi vi ricordo che dopo facevo un cartone animato tipo di Free Willy, altro film cult degli anni 90 che era veramente una cosa uscena. Comunque, allora, io sono cresciuto con il cartone di Sailor Moon, voi sapete che io ho amato, no, non lo sapete, ve lo dico adesso, che io ho amato tantissimo il cartone animato di Sailor Moon, ho amato le trasformazioni, ho amato insomma la storia, ho un'affezione molto particolare nei confronti di quel cartone, solo che col senno di poi, o col senno di poi, leggendo l'anime, due domande io me le sono fatte, ovvero, è vero che comunque l'adattamento cinematografico, anime, televisivo, è quello che volete voi, può in qualche modo discostarsi da quello che è l'opera cartacea, in questo caso in manga, però io penso che hanno fatto veramente delle scelte alquanto vuot. Allora, io vi parlerò solamente della prima serie, poi se magari il video vi piace e magari volete anche il raffronto poi con le altre serie, vi farò dei video man mano, io qua c'ho una cresta, boh, vabbè. Allora, la prima serie ovviamente ci introduce Sailor Moon, la gatta, insomma i cattivi, ricordiamo tutti la regina Pieriglia che stava lì con le ore a girare nella palla, tra l'altro ho comprato anche il Funko Pop, meraviglioso, c'è il Funko Pop di Black Lady ma sinceramente costa 60 euro, anche no, anche meno, comunque, vabbè, e le altre Guerriere Sailor, e la ricerca appunto della principessa della luna. Il punto è che quando si legge il manga si nota veramente una certa velocità nella storia, perché comunque le Guerriere Sailor appaiono tutte una dietro l'altra, insomma non c'è praticamente un gap di tantissimo tempo tra una Sailor e l'altra, cosa che invece accadeva nell'anime, che secondo me l'hanno veramente esasperato, io mi ricordo la prima e la quarta serie, non tanto la terza, perché la terza più o meno era interessante, ma la prima e la quarta serie, quindi quella del, vabbè, di Sailor Moon è quella del, il circo della luna spenta, praticamente, hanno veramente esasperato la storia, cioè sono arrivati all'esasperazione più totale, perché fondamentalmente il modus operandi delle puntate era sempre quello, soprattutto le prime, arrivava il mostro, Sailor Moon lo sconfiggeva e Buonanotte Santanotte. Mi ricordo poi delle puntate molto trash, tipo quella lì dove c'era la professoressa Rihanna, che nell'anime compare solo tre volte, dove praticamente voleva dimagrire, andava in questo centro di dimagrimento dove c'era Jack e gli succhiava l'anima attraverso queste ampolle, queste cose, era una puntata molto trash, onestamente. Vabbè, comunque, fatto sta che quello che salta subito all'occhio è il fatto che comunque l'anime ha un ritmo molto più veloce e serrato rispetto all'anime, che tra una Sailor e l'altra, insomma, passavano tante puntate. Io mi ricordo tra Sailor Mercury e Sailor Jupiter passano veramente tantissime puntate, anche perché poi Sailor Jupiter verrà introdotta poi nella storia che poi è stata aggiunta, ma quello lo vediamo dopo. Quindi, quello che salta subito all'occhio è questo, cioè io mi aspettavo qualcosa di molto similare, cioè non è che mi aspettavo un manga dove riproponesse paro paro tutte le puntate, però ho detto qualcosa di simile, invece no, è stato totalmente diverso. Quindi, la problematica dell'anime è che l'hanno veramente esasperata, con puntate sempre uguali, sempre le solite cose, che non arrivavano mai a nulla, che poi fondamentalmente compariva il nemico, faceva queste puntate, quindi prendeva l'energia, poi moriva, poi arrivava, subentrava un altro, faceva la stessa cosa e così andare. Questo però lo si vede molto bene nella terza serie, dove c'è appunto la Sailor Saturn e quant'altro. Quindi, io quando ho letto ho detto, porca miseria, cioè nell'anime, prima che arrivasse Sailor Jupiter, passavano tipo 50 puntate, qui invece la cosa è abbastanza veloce. Un'altra cosa che salta subito all'occhio è il fatto che sono state aggiunte delle cose di sana pianta, cioè sono state proprio inventate e proprio queste cose, insomma, che sono state inventate di sana pianta, dimostrano il fatto che volevano allungare palesemente il brodo. Io posso capire comunque a quei tempi, poi c'erano gli zaini, gli astucci, c'era comunque un merchandising, me ne rendo perfettamente conto, lo scettro piuttosto che la bambola, piuttosto che qui, e quindi tu hai anche interesse a allungare il brodo. Però, secondo me, molte puntate potevano essere totalmente tagliate. Allora, quali sono queste cose che sono state aggiunte? Innanzitutto, la morte dei quattro cavalieri, quattro cavalieri dove praticamente erano Jack, Nevius, Caspar e Zakar, io uso i nomi profani, dove praticamente nell'anime muoiono, insomma, puniti dalla regina Pieriglia, perché soprattutto Jack, perché aveva fallito. Nevius, che anche lì poi avrà la storia d'amore con Nina, inventata totalmente in età, una pianta uccisa poi da Zakar, qualcosa che è assolutamente allucinante nell'anime, perché comunque nell'anime, cioè scusate nel manga, hanno una sorta di fratellanza tra di loro. E quindi, la prima cosa è stata subito all'occhio, è questo fatto, insomma, il fatto dei nemici, che in qualche modo è stato solamente inventato di sana pianta. Ma, come dicevo, la particolarità è stata proprio quella di Nevius, dove praticamente era sto capellone, insomma, che andava in giro a fare un po' il figo, che si innamora di Nina, e lei crede che se il loro mondo di qua di là, cosa che nel manga non c'è assolutamente, questa cosa non c'è proprio per nulla, anche perché è poi uccisa da Zakar, che vuole prendere il cristallo nero di qua di là, eccetera, eccetera, per impossessarsi di varie cose e quant'altro. Altra cosa inventata totalmente di sana pianta è la rivalità tra Banni e Rea. Rea, che è un personaggio veramente molto più interessante nell'anime, Rea che è una sacerdotessa, scintoista forse, il nonno non viene assolutamente accennato, il nonno come se non esistesse. E praticamente che cosa succede? Succede che queste litigate che fanno tra di loro, tra Banni e Rea, non sono manco nominate, cioè non esistono assolutamente, anche il fatto che Rea ha avuto tipo una liaison con Marzio, anche lì totalmente inventata di sana pianta. Ma la cosa che veramente mi ha stupito, perché voglio dire, queste cose ci possono anche stare, nel senso la storia di Nevius con Nina, che si innamora, che lui poi sparisce tra le stelle che lascia la fascia, dove lei aveva del fazzoletto, no, del pigiama che lei gli aveva tolto, vabbè un po' di germi, facciamo un po' di igiene ma lasciamo perdere, perché avrà avuto anche un'infezione, ecco, se non crepava. Comunque poteva risultare anche un aspetto molto romantico della cosa, poteva aggiungere un qualcosa. Solo che onestamente questa parte è stata totalmente inventata di sana pianta innocente assolutamente niente. Allora, dopo la morte di Nevius subentra Zakhar. Zakhar che praticamente nell'anime è stata resa donna, invece nel manga è uomo. Molto bene, e lei deve trovare il cristallo d'argento. Il cristallo d'argento si forma grazie a vari pezzi del cristallo dell'arcobaleno, che è rinchiuso dentro praticamente degli esseri umani. Quindi lei prende questo coso e si libera il mostro che viene fuori. Tra l'altro poi c'è la puntata molto triscissima del prete, o quella lì dove Morea viene frenzonnata da suo tizio che ha poteri paranormali triscissimi. Quella puntata lì. Ma la puntata del... Perché ci sono due puntate. C'è la puntata del prete e poi successivamente c'è la puntata dove c'è praticamente Artemis che si innamora di una suora. Ma c'è veramente delle cose assurde. Comunque quella parte lì è totalmente... Cioè era totalmente inutile, perché comunque alla fine la scoperta del cristallo d'argento nell'anime è molto più interessante, molto più romantica rispetto a quella dell'anime. Perché nell'anime fondamentalmente anche lì allunghiamo un po' il brodo. Che le puntate sono tutte uguali. L'unica particolarità che compare se lo Jupiter, proprio per il resto, sono tutti uguali. E io non capisco questa cosa. Cioè posso capire le aggiunte che si sono state fatte? Posso capire tutto? Posso capire il fatto che comunque insomma c'è una particolarità? Insomma che uno si è preso delle libertà ci può anche stare. Ma cavolo nell'anime questa cosa è veramente molto romantica. Il fatto che comunque lei scopre essere la principessa della luna che il cristallo d'argento poi arriva tra le lacrime di Banni che è stata resa veramente in una maniera. Cioè solo per esasperare lo spettatore che fondamentalmente tu arrivi un po' e dici vabbè anche un po' meno. Quindi io questa cosa qua onestamente non l'ho capita. Quindi diciamo che la grande differenza sta proprio in questo nel aver aggiunto delle cose che ripeto alcune ci potevano anche stare altre un po' meno e anche per il fatto che la storia è stata veramente esasperata. Ma adesso arriviamo ai personaggi. Allora il personaggio di Banni anche qui nell'anime viene esasperato. Banni ci viene presentata come una ragazza pigara una ragazza che comunque non ha voglia di studiare una ragazza che non prende sul serio la propria responsabilità. Però la differenza è che mentre nell'anime cioè nel manga scusate alla fine poi avrà questa consapevolezza e diventerà matura e maturerà poi col tempo nel cartone animato quindi nell'anime questa cosa sinceramente va un po' scemando perché lei arriva a maturare alla fine quando c'è poi il combattimento finale col mostro però poi alla fine ritorna a essere quella di prima cioè fa un passo avanti e ne fa dieci indietro. E' vero che comunque nel manga ha dei tentennamenti perché questa cosa insomma le pesa è il fatto di essere come si dice il fatto di essere una principessa della luna il fatto di dover combattere e quant'altro benissimo però poi alla fine da questo tentennamento trova la forza per reagire. Invece il manga è veramente esasperante cioè anche lì c'è una puntata dove l'una gli pianta l'artiglio in faccia che la minaccia cioè veramente anche lì delle cose assurde oppure quando Rea la prende a schiaffi perché lei non vuole combattere cioè veramente delle cose veramente allucinogene e il personaggio comunque di Bunny è stato veramente maltrattato nell'anime perché comunque sì si poteva dare le stesse caratteristiche ovvero che lei era insomma come si suol dire che era impacciata, svogliata e quant'altro però non arrivare a quelli livelli perché veramente è stata molto molto esagerata e questo io l'ho trovato molto molto fastidioso sì ci poteva stare nella prima serie però poi riesce a raggiungere una certa maturità invece questa maturità non la raggiunge per esempio quando poi subentra Kibiusa che è praticamente la figlia io l'avevo capito già da quando era comparsa la prima volta anche quando ero un giovincello praticamente nella seconda serie della luna nera che io amo tantissimo cosa succede? anche lì litigate cose di qua di là che rendono veramente infantile il tutto è vero che comunque l'anime tratta delle tematiche veramente molto importanti ci sono delle cose che sono state omesse cioè nel manga che nell'anime sono state omesse tipo per esempio il fatto che Bunny vada a dormire a casa di Marzio che ci intende qualcosa poi successivamente ci saranno altre cose che vedremo oppure per il fatto che si parli di cerchi nel grano che si parli comunque di forze aliene che era una prerogativa degli anni 90 incominciare a farsi delle domande sugli UFO sui cerchi nel grano e quant'altro mentre il cartone queste cose le omette totalmente proprio perché il cartone era indirizzato ad un pubblico di bambini e quindi onestamente quelle tematiche potevano anche non interessare va bene tutto però ripeto esasperare così il personaggio di Bunny è stato veramente qualcosa di esagerato infatti quando ho detto l'anime ho detto cavolo ma può essere che hanno esagerato così tanto sorpresa delle sorprese Marzio Marzio che si chiama Mamoru nell'anime nel manga cioè scusate nell'anime si chiama Marzio nel manga si chiama Mamoru che cosa fa? lancia solamente le rose dice quattro minchiate messe in croce e poi se ne va e tanti cari saluti mentre ho scoperto che Mamoru non solo ha una storia veramente molto interessante alle spalle non solo comunque un personaggio con un background molto interessante molto importante soprattutto anche per la sua vita passata ma c'ha anche dei poteri diciamo che lui le rose non sa neanche dove stanno di casa perché comunque la cosa che mi ha stupito di più è il fatto che lui abbia dei poteri cioè lui ha non è solamente personaggio passivo che lancia la rosa che deve dare la la carica a Sailor Moon per dirgli datte una mossa insomma no ha dei poteri questa cosa mi ha sconvolto anche il personaggio di Mamoru è molto molto interessante rispetto a quello del cartone animato che fondamentalmente non fa assolutamente nulla anche lì ci sono delle cose che sono state un po' messe sono state un po' un po' rese così come la trasformazione di Milord il fatto che scopra poi che Bunny in realtà è Sailor Moon e quant'altro e anche la storia d'amore è una storia d'amore che comunque viene molto non dico ridicolizzata ma comunque viene molto molto semplificata mentre comunque nell'anime è qualcosa di molto molto importante quindi scordatevi tutte le puntate dove vi esasperavano scordatevi i pezzi i frammenti del cristallo e scordatevi anche il fatto che se non ricordo male c'è il cristallo d'argento che veniva impiantato dentro il coso anche lì la storia degli scettri è qualcosa di molto molto significativo rispetto comunque al cartone animato e le trasformazioni delle Sailor durano mezza mezza vignetta e basta forse è un po' quella la particolarità e la bellezza dell'anime che praticamente c'era appunto queste trasformazioni e noi ci chiedevamo i nemici che cavolo stessero lì a fare mentre Sailor Moon si imbellettava così molti mi hanno detto le persone educate aspettavano certamente anche la parte dei guardanti cattivi è molto interessante tipo per esempio la loro morte porca miseria che comunque non è come quella dell'anime che è molto banale tipo quella di Jack che aveva fatto sto Titanic che l'aveva fatto ma cose veramente assurde anche tutto il background dei mostri di qua e di là non c'è assolutamente e sono la particolarità che questi nemici sono legati anche a Marzio perché nella vita passata praticamente erano erano in qualche modo legati questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere anche tutto il passato quindi tutto quello che riguarda il Crystal No Crystal City è quello del secondo comunque il regno della luna la vita che conduceva a banni insomma tutto viene molto anche lì romanticizzato e gli viene dato spazio non è solamente una cosa solamente accennata e buonanotte diciamo che l'anime è sì un prodotto che negli anni se lo contestualizziamo ha avuto un grande successo proprio per quel motivo lì però essendo di poi leggendo il manga uno o due domande se ne fa ripeto io sono comunque legato a Sailor Moon però credo che insomma si poteva fare di meglio bene questa è la mia prima considerazione della prima serie poi ci sarà quella della seconda serie della terza che ho quasi finito ma vi devo dire che le mie preferite erano la seconda la terza e un po' la quarta anche lì sulla via dell'esasperazione bene fatemi sapere voi se avete letto il manga fatemi sapere voi qual era la vostra Sailor preferita cosa ne pensate di Sailor Moon fate sempre tante cose belle so che sono l'ultima persona che dovrebbe parlare di manga e di anime però ci tenevo a dire la mia opinione molto bene il video è finito un grosso bacione noi ci vediamo alla prossima ciao